Sabato 1 febbraio, a distanza di due anni esatti, torneranno a manifestare in piazza appenne i familiari dei 18 disabili gravi che dal 20 dicembre scorso non possono più usufruire del centro diurno, vedendo di fatto bloccate le attività socio-ricreative. La situazione è precipitata dopo che l'ECAD, ente capofila ambito distrittuale per la gestione dei servizi sociali dell'area vestina, ha avviato il nuovo bando di gara, quest'ultimo vinto dalla cooperativa SGS di Lanciano, mettendo fine alla gestione ormai decennale della fondazione Paolo VI. Purtroppo ad aggravare la situazione anche la nuova sistemazione scelta da ECAD, che vede la nuova sede del centro diurno spostarsi da piazza Duomo, dove ancora oggi continuano le terapie sanitarie, allo stabile dell'ex liceo, non idonee ad ospitare i ragazzi. Ricordiamo, con disabilità gravi, viste le tante barriere architettoniche all'interno e per giunta danneggiato dalle attività sismiche degli anni passati. A scendere al fianco di utenti e familiari come di consuetudine ci sarà l'associazione Abbattiamo le Barriere Onlus, che ogni giorno lotta per i diritti dei più deboli, per i quali l'assistenza e l'attività sociale non dovrebbe essere chiesta con manifestazioni in piazza, ma un diritto inalienabile. L'associazione per bocca dei rappresentanti Gabriele Frisa e Alessandro Olivieri chiedono ad ECAD, Regione Abruzzo e Comune di Penne di lavorare rapidamente per trovare risorse e soluzioni per tamponare quantomeno la situazione di disagio. Naturalmente chiediamo alle istituzioni locali, all'Adi, all'ECAD, al Comune, alla Regione Abruzzo di darci le risposte. Se non ci sono i soldi o che trovassero i soldi, cerchiamo di essere in tanti, sabato pomeriggio alle 3 di pomeriggio, mi raccomando accorrete tutti perché abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti, uniti si vince, da soli si perde.